In Consiglio Comunale a Livorno presenti anche i lavoratori di Lucarelli Terminal, siamo con Cristiano Lucarelli per chiedere che cosa? Di poter lavorare, semplicemente, perché noi siamo dall'ingresso mio nella Lucarelli Terminal, gli ultimi sei bilanci li abbiamo chiusi inutili, siamo un'azienda sana che paga regolarmente i propri lavoratori, riconosce un integrativo, ha un accordo sindacale da quel punto di vista, quindi siamo una società ad esempio per quanto riguarda il Porto di Livorno, nonostante questo incredibilmente in una città già in depressione economica dove ogni giorno chiudono aziende, noi che siamo un'azienda sana siamo costretti a chiudere perché l'autorità portuale non ci pone nelle condizioni di portare il rimedio alla dotazione infrastrutturale che abbiamo, che è per i tempi di oggi e per i navi di oggi assolutamente inidonea come dichiarata anche dalla stessa autorità portuale. Un giorno in cui presentammo un nuovo servizio di collegamento tra Livorno e la Libia ci fu detto che noi non avevamo la banchina idonea per fare questo tipo di servizio, ma d'altro canto non hanno cercato neanche di portare dei rimedi a questo problema. Noi ora abbiamo attivato la cassa integrazione ordinaria al 50% per tutti i nostri lavoratori, rischiamo da qui al 31-12 di chiudere proprio perché l'autorità portuale non dà seguito a quello scritto da lei stessa sul piano operativo triennale del Porto, cioè che prevede la delocalizzazione della Lucarelli in area più idonea per svolgere i traffici che abbiamo, ma nonostante questo questa delocalizzazione non arriva, continuiamo a lavorare con questa interdizione per navi superiori ai 150 metri che con le dimensioni del naviglio attuale del cabotaggio praticamente ci taglia fuori da tutto il mercato. Ancora una volta sono 40 lavoratori di un'impresa sana, un'impresa che fa utile, una delle poche che fanno ancora utile, che quindi ha dimostrato di essere sostenibile, di avere delle potenzialità di crescita e che fa le spese di dinamiche che assolutamente sono da condannare. Questa cosa io l'ho detta in comitato portuale, naturalmente non sono gradito perché racconto le cose in modo estremamente chiaro e puntualmente queste cose si avverano. E questa è l'ennesima riprova, 40 lavoratori potenzialmente sono a rischio di lavoro, verranno fuori naturalmente con le clausole sociali, con il salvataggio, quando in realtà il percorso però non è soltanto questo, non è soltanto la tutela dei 40 ma è la tutela del fatto che ci sia all'interno di tutto l'ambito portuale la necessità di dialogare affinché ognuno abbia l'opportunità di crescere e di alimentare l'intero contesto della comunità portuale. Questo manca, questo è quello che abbiamo sempre dichiarato apertamente e questo è quello che vado rivendicando anche in questa specifica situazione. Quindi come ho già detto per la lucra reale termine a Livorno, noi saremo a disposizione per portare qualsiasi tipo di stanza e in comitato portuale per quello che naturalmente può valere, perché si sa lì il sindaco di Livorno conta soltanto uno nel contesto generale, mi farò sentire nell'ambito del governo in un dialogo spero costruttivo con il ministro del Rio e vedremo magari attraverso interrogazioni parlamentari se possiamo ottenere qualcosa.